Io voglio venire tra l'altro. Susanna, vi asciara di marisca. Non mi appendi più, di marisca. Un'ora di oggi giochiamo qui a cegliotti anche a fagamenti. Wow, Mr. Giacomo. Invece che la ceglia sono un ufficiale. nel senso questa cosa ha ceduto che sono un uomo che sono un uomo. Ma sono un uomo Jacko è un uomo scuola scuola Umenikensa kiesica kutosha. Quando mi fanno? Mi me poteza furaha e maishansi. Mi me kuo kama mkibili. Sina pavere mkibili, anamazikila mazzurro iluandario. Mimi nime kuo kama omba omba. Mi sii quale makazi maalu kwa sababu ya fuwe. Mi. Umba le poteza fasta pavere kujieleze. Kwa kuwa Kwa kwa nyima Kwa kwa hivupaka buke Kwa kubu bala no mre okay Sino idukano ombapla. Kwa kowa keria c handi Saiudia k forward. Skola skola. Mni mkupa namahasia kujielezer. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.